martedì 11 settembre questo è liscio e macchiato buongiorno maurizio gustoni buongiorno mercoledì allora cominciamo questa mattina dall'attesissimo dibattito trump harry se lo affrontiamo come non avendolo seguito durante la notte perché questa mattina c'era liscio e macchiato lo facciamo come tutti cioè leggendo i titoli dei giornali per farci un'idea di come viene presentato di come è andato allora la notte del duello il corriere del ticino per harris il mondo ride di trump il tycoon parla della peggiore vicepresidente della storia taghe san saiger harris mette trump nei guai le tom il dibattito presidenziale ha visto un donald trump arrabbiato e dalla faccia rossa affrontare kamala harris che incarna il campo degli adulti repubblica kamala harris trump il dibattito su aborto e immigrazione l'ex vice e l'ex presidente vogliono uccidere i bambini al nono mese che arriva in america mangia i nostri animali e per harris arriva l'endorsement di taylor swift dopo lo leggiamo corriere del tic corriere della sera un duello tv trump dem pronti a uccidere i bambini di nove mesi harris i leader stranieri ridono di te e per finire voglio leggervi fox news che è una televisione diciamo conservatrice americana la tv di robert mardock vicina a trump che dice nello scontro tra tampa harris c'è stato un chiaro vincitore ma non credete che questa elezione sia finita il commento è molto chiaro mi sembra abbastanza chiaro scrive l'articolista che martedì sera la vice presidente harris ha vinto quello che potrebbe essere l'unico dibattito tra lei e l'ex presidente trump anche se la vice presidente ha avuto un po di aiuto è stata favorita dai due moderatori della abc questa la panoramica maurizio a te penso che quando si parla di elezioni che riguardano altri paesi e paesi anche diversi dal nostro i commenti che possiamo dare noi non sono che possono dare i nostri giornali non sono sempre affidabili nel senso che noi non dobbiamo giudicare valutare le prestazioni dei candidati con con la nostra ottica di europei molto attenti a determinati temi e determinate posture ma dovremmo farlo con con la testa in parte con la pancia dell'elettore americano quindi io ho seguito alcuni alcuni estratti del 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 dibattito anche perché era durante la notte è chiaro che se lo giudichiamo con i nostri canoni la vice presidente harris è sicuramente più posata più concreta più diciamo così corretta dal punto di vista anche delle dell'espressione del riferimento a delle situazioni trump sembrato più più confuso più più banale anche in certe espressioni però non dimenticarci che che trump aveva vinto le elezioni contro hillary clinton che tutto sommato è un profilo simile a alla eris quanto a se non addirittura superiore come competenza esperienza e conoscenza dei dossier quindi si si può dire che coi nostri occhi probabilmente kamala eris è risultata più convincente però questo non credo che possa essere giudicato come la fine della campagna elettorale anche perché sappiamo benissimo che le elezioni americane non vengono vinte con il voto popolare sempre meno vengono vinte col voto popolare ma vengono vinte aggiudicandosi i grandi elettori di alcuni stati chiave che appunto hanno magari delle priorità che sono diverse da quelle della maggioranza degli americani però come leggevo anche fox news che voglio dire insospettabile di essere sostenitrice di kamala herris la dà come vincitrice di dibattito quindi anche con gli occhi dei conservatori americani ha vinto kamala herris pur come sottolineano loro non vuol dire aver vinto le elezioni su sì diciamo che se si ha negli occhi o nella memoria il precedente dibattito per la presidenziale tra trump e biden chiaro che qui biden risultato scusate trump risultato decisamente meno meno in forma e meno in palla eh dai titoli appunto avevo fatto un accenno sull'endorsement di taylor swift che è arrivato subito dopo il dibattito eccolo qua ehm la pop star lo ha fatto con un post sui social dove è apparsa con una foto che la ritrae insieme a uno dei suoi gatti e anche questo è un messaggio politico in quanto vance il candidato vicepresidente di trump aveva detto che le donne senza figli sono solo gattare che non dovrebbero avere diritto di voto ha scritto taylor swift voterò per kamala herris perché lei lotta per i diritti e le cause in cui credo che hanno bisogno di una guerriera per sostenerla 3 milioni di like in 57 minuti sappiamo che insomma taylor swift di taylor swift si dice che è in grado di muovere punti dei p del pil dei paesi dove va a fare i concerti chissà se sa promuovere anche eh una massa sufficiente di elettori spostarli verso kamala herris c'è chi dice di sì c'è chi dice che poi invece questi endorsement da parte dello star system americano diciamo filo democratico per finire non non incidono sul voto tu cosa pensi maurizio e ascolti taylor swift no non non motivi politici evidentemente perché non fa parte della musica che ascolto di solito eh credo che già l'altra nelle passate occasioni lei la sostenitrice del partito democratico credo che abbia anche dato dei dei sostegni finanziari quindi non è una un sostegno che sorprende e del resto come dicevi anche tu la maggior parte degli attori dei registi delle cantanti eh americani generalmente sostengono i democratici nel senso che non è una sorpresa che che ci siano persone diciamo così più libera come orientamento che si riconoscono di più in kamala herris che non in in donald trump appunto poi quanto questo possa servire eh è difficile da dire anche perché appunto immagino che convinca o o o diciamo così irrobustisca la convinzione di chi già comunque in quel campo ecco non credo che il tipico elettore repubblicano degli stati eh diciamo così della bible belt eh cambino idea perché taylor swift dice che è meglio kamala herris di di donald trump no forse ecco la taylor swift potrebbe portare tanti giovani nuovi elettori a votare forse questo ecco forse questo più perché almeno non conosco esattamente ma bisogna registrarsi in america per poter votare in diversi stati e in alcuni casi proprio la partecipazione è bassa perché non c'è l'iscrizione al voto quindi ecco potrebbe essere un'incitazione a mobilitarsi che è sempre positiva ecco più più gente partecipa al voto meglio in generale dal grande pop e della grande politica internazionale veniamo in Ticino Marco Daniel Ritzer direttore della regione questa mattina da Trump a Sergio Morisoli allora Ritzer parla del Morisoli bis presentato ieri dal Sguicci questo questa proposta per contenere il disavanzo finanziario del cantone un brutto miscuglio di contorsioni semantiche condito con qualche automatismo aritmetico che andrebbe a invalidare il ruolo di due esecutivo e legislativo dei tre poteri dello Stato visto che quello giudiziario nel frattempo ha già fatto abbastanza per auto delegittimarsi l'iniziativa Morisoli bis propone dei tetti massimi alla crescita della spesa nelle tre voci che contano personale bene servizi e spese di trasferimento un vincolo che non è altro che un trucco contabile attraverso il quale il mago Sergio e i suoi discepoli tentano di nascondere l'evidenza in una situazione di pil popolazione bisogno in crescita riportare il livello della spesa pubblica alla media dei quattro anni precedenti e qui vada ad applicare un pesante taglio lineare scrive Ritzer ciò non vuol dire che non ci sia margine per rendere più efficace la gestione della spesa pubblica e infatti il gran consiglio al momento di approvare il preventivo 24 ha deciso che prima di tutto va fatta una spending review seria e indipendente ecco perché appare coerente che i partiti di governo e non solo si siano detti contrari alla proposta morisoliana anche se poi ognuno con le proprie sfumature maurizio poi tra l'altro tu dici che non è escluso che le 25 si potranno pareggiare i conti e me l'ho letto così sulla regione. Il preventivo 24 prevedeva un deficit superiore a 130 milioni a giugno questo deficit è già stato ridimensionato a 100 milioni quindi con un miglioramento di 30 milioni vuol dire che se abbiamo questa velocità di crociera finiremo il 2024 con un deficit attorno ai 70 60 milioni quindi con uno scarto di 60 milioni. Il Consiglio di Stato ha presentato o ha detto che vuole presentare un preventivo con 60 milioni di deficit quindi se usiamo lo stesso margine di miglioramento vuol dire che chiudiamo in pareggio e che se la banca nazionale dovesse ricominciare a versare degli utili e ricordo che le quota minima sono 58 milioni addirittura abbiamo una riserva di 60 milioni che magari possiamo destinare a evitare aumenti di imposte o introduzione di nuove imposte come mi sembra voglia fare il Consiglio di Stato nell'ambito del preventivo 2025. Quindi ecco. I morisoli bis decadrebbe automaticamente se il 25 fosse un anno di pareggio. Sì, non è che decadrebbe. Allora verrebbe rispettato il primo decreto, quello che è stato in posizione popolare e probabilmente si avvertirebbe un po' meno la necessità di introdurre una nuova legge per consentire il rispetto di una situazione che avremmo più o meno già acquisito. Poi sappiamo benissimo che possono accadere sia a livello interno sia a livello internazionale degli eventi che scombussolano i conti, l'abbiamo visto con il Covid, l'abbiamo visto in misura minore con la guerra in Ucraina. Quindi è sempre bene avere dei principi guida, ma che sono già nella Costituzione per cui i conti debbano essere in equilibrio. Aggiungere delle leggi che precisano in modo minuzioso, per certi aspetti maniacale, come questo pareggio deve essere raggiunto, qui Rizzer ha ragione, è chiaro che limita in modo importante sia l'attività del Consiglio di Stato sia l'attività del Gran Consiglio. Sulle Tomp questa mattina c'è un'articolessa di Norman Gobby. Sì, parla del terrorismo oggi, ricordo che siamo a 23 anni dall'attentato del Torri Gemelli di New York, 11 settembre. Allora, il recente attentato terroristico a Solingen in Germania, dove un estremista seriano ha ucciso tre persone con un coltello e una ferita e altre otto, è l'espressione della permanente minaccia terroristica grada sull'intera Europa ed è lo spunto che prende Norman Gobby per parlare di terrorismo in Svizzera. Il barbaro attacco terroristico di Hamas, scrive contro Israele da Gaza. Poi la legittima risposta ha causato a livello internazionale una recrudescenza del terrorismo islamico e dell'antisemitismo. La Svizzera non è risparmiata da questa importazione del conflitto in Medio Oriente. Si sono poi moltiplicati i casi di attività che potrebbero portare ad azioni terroristiche o adatti antisemiti. Poi ricorda Gobby l'aggressione di una donna, di una giovane donna in un grande magazzino di Lugano, la Manor, poi la condanna del Tribunale federale, e dice che questo atto criminale è stato banalizzato, trattato con molta discrezione dai media, come spesso accade, hanno concentrato la loro attenzione sui presunti problemi psichiatrici dell'autore e dell'autrice. In questo caso non esiste più necessariamente, aggiunge Gobby, un legame organico tra il movimento islamico e il terrorista. Basta la causa condivisa. Si tratta di individui che possono apparire isolati ma che abbracciano una causa globale. Dobbiamo capire, conclude Confederazione e Cantoni, che solo un sistema dedicato alla prevenzione di tutte le minacce destabilizzanti per il Paese, compreso il terrorismo, consentirà di proteggere la Svizzera da questi pericolosi individui. Nell'eterno difficile equilibrio tra libertà e sicurezza bisogna considerare che quanto accaduto a Solingen in Germania potrebbe accadere a Basilea, Locarno o Ginevra. Maurizio. C'è una riflessione che può anche starci, dopodiché lui è il capo del Dipartimento delle istituzioni, quindi responsabile della sicurezza in questo cantone e credo che in questi anni abbia avuto e abbia svolto delle riflessioni su come affrontare questa minaccia è condiviso anche delle proposte con l'autorità federale che è competente per gli atti di terrorismo, quindi ci può stare come riflessione generale, poi bisogna capire come questo pensiero si traduce in azione politica. Dopodiché capisco il suo ragionamento, è difficile riuscire a prevenire degli atti di terrorismo che vengono compiuti da persone che di per sé non sono all'interno di organizzazioni, non sono per forza legate a dei movimenti radicalizzati, ma che sono, non voglio qui banalizzare l'aspetto psichiatrico, ma che sono sostanzialmente dei cani sciolti imbevuti in parte di ideologia, in parte di problemi loro e che a un certo punto si alzano la mattina e decidono di andare in una piazza, in un supermercato e commettere degli atti che possono anche avere conseguenze molto gravi. Come non si può probabilmente prevenire quello che è accaduto in questi giorni in Italia, dove persone si svegliano e decidono di uccidere tutta la famiglia o di accoltellare una persona in mezzo alla strada. Non riesco, ma non sono un tecnico, un esperto, a capire come si possano affrontare con gli stessi strumenti un'organizzazione terroristica che per quanto piccola e cellulare ha comunque dei contatti e quindi della necessità anche di comunicare, di reperire del denaro per acquistare armi, per acquistare strumenti esplosivi eccetera. E una persona che per i suoi problemi anche di tipo medico a un certo momento decide di commettere degli atti criminali. Come è successo ad esempio anche a Trump, una persona per sé insospettabile, prende un fucile, si piazza sul tetto e spara e spara. C'è una consuetudine con le armi diversa dalla nostra. Io oltretutto, non so se in Tizzer abbiamo meno armi. No, no, un rapporto diverso diciamo con questa tematica. No, diciamo che noi probabilmente abbiamo tante armi, ma le gestiamo in modo un po' meno disinvolto. Esatto. Andiamo avanti. Romano Prodi domenica sarà a Lugano nell'ambito del Festival Endorfine. Oggi c'è un giro di interviste dove viene presentato questo incontro. Questo è il Corriere del Ticino. Questa invece è la Regione. e anche c'è un'intervista su Ticino Online. Ecco, in queste tre interviste Romano Prodi parla un po' di tutte le grandi crisi internazionali, da Israele alla Russia e anche del rapporto Draghi che è stato presentato in questi giorni sull'Europa, eccetera. Però per, diciamo, scegliere un argomento, qui dal Corriere del Ticino parla dei rapporti tra Svizzera e Europa. Sappiamo che è in corso un negoziato per un nuovo accordo istituzionale. Romano Prodi, già presidente della Commissione Europea, dice questo. Durante i miei mandati ho sempre avuto buoni rapporti con la Svizzera. Quando ero alla presidenza dell'UE non feci mai sforzi affinché Berna entrasse come paese membro. La mia massima, che vale anche oggi, è che la Svizzera ha molto da guadagnare ma anche molto da perdere a entrare in Europa. Meglio, molto meglio, andare per gradi con accordi progressivi. Con la Svizzera bisogna trattare empiricamente, pezzo per pezzo, senza fare grandi rivoluzioni. So che è difficile farlo, ma le basi ci sono. Berna, per farla breve, non è certo un'entità extraeuropea. Mi sembrano parole condivisibili, sagge, del resto è una persona Prodi a cui non penso si possa rimproverare estremismo o mancanza di senso dello Stato nelle funzioni che ha esercitato sia a livello italiano che a livello europeo. Non penso che l'orizzonte della Svizzera sia di entrare a far parte dell'Unione Europea, perché credo sia un'organizzazione che è incompatibile con il nostro sistema di democrazia diretta. E' vero che in alcuni ambiti degli accordi sono sicuramente sensati e anche nel nostro interesse. E la via bilaterale, finora, è quella che ha consentito, anche con la benedizione del popolo svizzero, non di quello ticinese, di allacciare dei rapporti in alcuni ambiti settoriali e il fatto che questa via sia stata ripetutamente comunque accettata dal popolo dimostra che questa è la strada più corretta. In questo senso l'accordo quadro non mi sembra un passo che sia in continuità con questa via che finora ha prodotto dei buoni risultati. Tanto è vero che ha già conosciuto diverse battute d'arresto e spero che questa impostazione venga abbandonata. Decisamente non è lì, neanche perché lo dice la stessa parola, è un accordo quadro e non un accordo, diciamo, pezzo per pezzo, come dice Romano Prodi. Sì, e poi ci subordinerebbe comunque a autorità giudiziarie extrasvizzere che, appunto, complicherebbero molto anche l'esercizio della nostra democrazia diretta. Per chi fosse interessato a sentire Romano Prodi o gli altri ospiti di Endorfine trova tutte le informazioni sul sito endorfine.ch. Camarco, per finire, una notizia da qui come? Notizietta un po' curiosa. Una persona, un uomo italiano disoccupato, almeno a quanto pare, è stato fermato dalla Guardia di Finanza italiana, sul treno Lugano-Milano, aveva con sé, insospettiti gli agenti l'hanno trovato in tasca, un Rolex, cassa e cinturino d'oro, 36 zaffiri arancioni, 8 diamanti sul quadrante di madre perla bianca, valore 312 mila euro. Tra l'altro con una garanzia intestata a un cittadino cinese residente a Hong Kong, residente a un acquisto avvenuto a Parigi nel 19. Che cosa ci facesse, insomma, questo personaggio, questo individuo con questo mega Rolex in tasca sul treno da Lugano a Milano? Non si sa, se lo chiarirà l'inchiesta della magistratura, comunque l'orologio è stato sequestrato e in tasca lui aveva anche 6 mila euro in contatto. Insomma, mistero. Vuoi aggiungere qualcosa, Maurizio? Vabbè, non mi sembra un gran mistero, mi sembra un modo abbastanza comodo e pratico di portare in Italia un sacco di soldi. Però, per forza, avere valigiate di denaro. Questa volta è andata male, probabilmente 6 mila euro nella commissione che lui si sa. Sarà stata la quota a parte del valore. Vabbè, del valore. Bene, grazie mille Maurizio per essere stato con noi questa mattina. Ce ne sono dei racconti di come si faceva portare di là o di qua determinati valori, quindi non mi sembra niente di così di nuovo. Anzi, probabilmente è una cosa un po' vecchia e infatti è stato intercettato. Bene, grazie Maurizio e buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. E buona giornata anche a te, a Marco e a tutti quelli che ci seguono. Buon appuntamento. La sera c'è detto tra noi, eh? La sera c'è detto tra noi. 19 e tre.